Due amici si incontrano e uno ci fa, sai, dice, morì io, mia nonna. Dice, come morì io, mia nonna? Sai, vissi, dice, Antura, dice, ho meccato. No, no, quale meccato? Morì io. Sai che succedì? Nel palazzo dove abita lei scoppiava un incendio. Dice, e morì, aspetta, fammi finire. Allora, vinnono i pompieri, ci misero il telone e io, coraggiosamente, si ittavo. Dice, si ittavo, ma ho picchiavo di una cascata. Fammi finire di parlare. Che fici? E' ribalzata sul telone, fici un volo in aria, c'era una finestra aperta, siccata sta finestra, c'era un letto matrimoniale, e' ribalzata sul letto, nisciva una ciotola da finestra, cascava una ciotola da un tannato sul palazzo, insomma, e poi una ciotola da un lune. Come io d'appiccicava un tuo palazzo, casca una ciotola da un lune e ribalzata una ciotola. E faceva, chi ne scende? Insomma, morì, ma come morì tua nonna? Dice, come morì? Visto che non si poteva fumare, pigliamo e ci spariamo. Eh.